Musica Criminalità, la provincia di Salerno al quinto posto per associazione di tipo mafioso. L'allarme dalla classifica del sole 24 ore. Piano di protezione civile comprensoriale della comunità montana Valodidiano, un modello da seguire. Padula, nuova delimitazione del centro abitato dall'ANAS Locchei alla nuova perimetrazione con l'inserimento di Voltacamino e Fontanelle. Polla, visita pastorale del Vescovo della Diocesi alla Forania Locale, ieri l'incontro con le istituzioni. Padula, il 27 ottobre, la giornata dedicata a padre Minozzi e agli orfani della Certosa. Buongiorno e bentrovati. Il sole 24 ore ha presentato la classifica della criminalità in Italia. La diffusione dei reati posiziona al primo posto della classifica generale Milano. Preoccupa però la quinta posizione di Salerno nella sezione specifica dedicata alle associazioni di tipo mafioso. Salerno batte Palermo e Caserta in una classifica decisamente poco lusinghiera. Il sole 24 ore ha pubblicato la classifica dell'indice di criminalità in Italia. E se la maglia nera nella classifica generale se la giudica Milano insieme a Rimini e Firenze, rispettivamente al secondo e terzo posto, Salerno si posiziona al quinto posto nella classifica specifica dedicata alle diffusioni di reati di tipo mafioso. La maglia nera per la diffusione della criminalità a Milano deriva in particolare per l'alta concentrazione di reati come furti, rapine, estorsioni, truffe, frodi, violenze sessuali, infanticidi, rendendo il capoluogo Lombardo la città meno sicura e più pericolosa d'Italia. Se nella classifica generale Salerno si posiziona al 46esimo posto, con le prime posizioni occupate da città del nord, il meridione purtroppo continua a distinguersi per l'alta concentrazione di organizzazioni di tipo mafioso, con Salerno che avanza notevolmente nella classifica specifica, arrivando a superare città che nell'immaginario collettivo si sono sempre distinte per l'alta concentrazione di associazioni di tipo mafioso. Delle 106 province esaminate ai primi posti si vedono solo città del sud con le prime due posizioni di questa terribile classifica che se la giudica la Calabria con Reggio Calabria e Crotone. Terza Napoli, seguita da Enna. E al quinto posto troviamo Salerno. Una posizione che non rende certo merito alla provincia se si pensa che la concentrazione di organizzazioni mafiose sul territorio ha superato anche città come Catania al sesto posto, Bari al decimo posto, Caserta al sedicesimo e addirittura Palermo posizionata al diciottesimo posto della classifica, meglio anche di Roma al diciassettesimo. Notizia positiva sembra essere la predisposizione delle comunità a denunciare. Sul quotidiano il mattino, infatti, il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, rilasciando un'intervista, ha spiegato come i dati emergono in virtù delle denunce effettuate. Ciò significa che oggi vi è più consapevolezza e più coraggio nel denunciare reati, consentendo alle forze di polizia di intervenire. Un dato che comunque non meraviglia è il questore che nell'intervista spiega come la classifica rispecchi quanto più volte denunciato in passato e sull'appetibilità del territorio per le organizzazioni criminali provenienti da altre province. Il fattore denuncia, però, resta importante per il questore, che ribadisce come in tal modo si riescono ad assicurare alla giustizia il 70% dei malviventi. Il piano di protezione civile comprensoriale della comunità montana Vallo di Viano è stato indicato come un modello da seguire. Ieri a Salerno, alla giornata di studio, la pianificazione di emergenza come strumento di prevenzione nell'ambito della settimana nazionale della protezione civile, il presidente Raffaele Accetta ne ha illustrato le attività e i risultati. Il piano di protezione civile comprensoriale della comunità montana Vallo di Diano è stato indicato quale best practice alla giornata di studio organizzata ieri dalla Prefettura di Salerno e dalla Regione Campania dal titolo La pianificazione di emergenza come strumento di prevenzione nell'ambito della settimana nazionale della protezione civile. Sono sette giorni dal 13 al 19 ottobre in cui i cittadini italiani possono entrare a contatto con le donne e gli uomini del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Al centro di tutto ci sono le buone pratiche di prevenzione dai rischi. E ieri mattina, presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino, alla presenza del prefetto, del direttore regionale della protezione civile, del presidente della provincia, del sindaco di Salerno e del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, è stato il presidente Raffaele Accetta a illustrare il piano di protezione civile comprensoriale della comunità montana Vallo di Diano. L'esperienza del lente montano è stata indicata come una best practice e ciò, ha affermato Accetta, ha premiato l'importante lavoro fatto dalla comunità montana insieme ai 15 comuni del territorio con l'istituzione di un ufficio comune per la gestione associata delle attività di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. La coesione del territorio e la condivisione di una programmazione unitaria sono stati determinanti a raggiungere significativi risultati, tra cui la realizzazione del piano di protezione civile comprensoriale con tecnologia GIS, il coordinamento del piano di protezione civile con i piani urbanistici comunali, l'inserimento di un nuovo strato informativo relativo alla disastrologia veterinaria, l'elaborazione dello scenario delle disabilità, lo sviluppo nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne e del tema della sicurezza del territorio. Con orgoglio, ha concluso il presidente Accetta, ho potuto rappresentare le attività e i risultati raggiunti dal nostro territorio virtuoso, che ancora una volta è stato indicato come un buon esempio nell'ambito delle attività di protezione civile, avendo tra l'altro anche anticipato quanto previsto dal decreto legislativo numero 1 del 2 gennaio 2018. E' boom di adesioni ai bandi proposti dal GAL Vallo di Viano nelle tipologie di intervento delle misure 411 a sostegno di investimenti nelle aziende agricole e 641 per la creazione di nuove imprese agricole. Un risultato importante che evidenzia come la scelta e gli interventi su cui l'ente ha deciso di investire nella destinazione delle risorse risulta vincente e apprezzata dal territorio. Un risultato che il presidente Attilio Romano e l'intero consiglio di amministrazione ha commentato con entusiasmo, manifestando grande soddisfazione per la risposta ottenuta e il gran numero di progetti presentati. Questo risultato, commentano dal GAL, lascia ben sperare per l'afflusso di domande di sostegno sui bandi ancora attivi e denota sicuramente da una parte una buona comunicazione sulle opportunità messe in campo dal GAL e dall'altra che la strategia a suo tempo concepita risponde pienamente alle reali esigenze del territorio. Rinnoviamo l'invito al territorio. Continuano a rimanere in ascolto su tutto quanto promosso dal GAL attraverso il proprio sito istituzionale, agli organi di comunicazione di dare sempre massima eco perché le informazioni possano raggiungere il maggior numero di persone possibili. Andiamo avanti con la cronaca. Potrebbe esserci una ripicca per futili motivi alla base del macabro gesto che ha sconvolto la comunità di Agropoli. Domenica mattina i custodi del cimitero locale hanno scoperto che una tomba era stata profanata e che i gnoti avevano portato via la salma di un giovane e si continua ad indagare. Non si fermano le indagini da parte dei carabinieri di Agropoli per capire chi siano stati i responsabili del furto della tomba di Pasquale Piccariello, giovane agropolese che morì nel 2006 in seguito di un incidente stradale. Un'azione mirata e premeditata, visto i malviventi, si pensa a tre persone agire indisturbati nel cuore della notte di sabato 12 ottobre, rompendo a martellate il marmo della bara ed estraendo il feretro del giovane ventenne. La bara di Pasquale, posizionata al terzo livello, quindi gli autori del gesto hanno utilizzato le impalcature presenti all'interno del Camposanto per portarla via. Inoltre non si riesce a comprendere se davvero la bara sia stata portata all'esterno del Camposanto e dispersa in qualche terreno circostante o sia stata solo spostata in un altro loculo vuoto. Infatti, il personale addetto, verificherà nelle prossime ore se nei loculi vuoti ci sia il feretro di Pasquale. Dai familiari fanno sapere inoltre che nulla è riconducibile all'episodio che è accaduto la scorsa settimana in località Moio quando la compagna della sorella di Pasquale, dopo una lite, gettò il loro cagnolino dal terzo piano. Insomma, gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per risalire ai responsabili dell'orribile gesto e assicurarli alla giustizia. L'ANAS ha approvato la nuova delimitazione del centro abitato di Padula con il cambiamento dell'agglomerato urbano e l'estensione dei fabbricati nella periferia si è reso necessario ampliare la delimitazione dei confini del centro abitato. Due le località inserite. Vediamo i dettagli. Dall'ANAS è arrivato l'ok per l'istituzione di una nuova perimetrazione del centro abitato di Padula che dallo scorso settembre vede rientrare nel perimetro anche le località di Volta Cammino e Fontanelle. Lo scorso maggio, con delibera di giunta, l'amministrazione comunale padulese, annullando una precedente delibera del giugno 2018, aveva approvato l'estensione della delimitazione del centro abitato con l'inserimento all'interno del perimetro delle località Fontanella, della decente la SS19 dal chilometro 82 al chilometro 83 più 250 e della località Volta Cammino, sulla SS19 dal chilometro 84 più 560 al chilometro 85 più 400 e sulla SS517 dal chilometro 34 più 800 al chilometro 35 più 10. Dopo una prima elaborazione, in cui si prevedeva l'inserimento nel centro abitato anche delle località Cardogna e Ferrero Padre Felice che non avevano ottenuto l'ok dall'ANAS, i tecnici comunali avevano provveduto ad una nuova rielaborazione della perimetrazione anche in considerazione delle modifiche alle condizioni abitative del comune e verificando la sussistenza dei requisiti del decreto legislativo del 92 che definisce il centro abitato come un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili costituito da non meno di 25 fabbricati ed aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Una modifica che riguardando località Volta Camino e località Fontanelle incassa ora l'approvazione del settore area compartimentale Campania dell'ANAS che accoglie la delibera approvando il verbale di nuova delimitazione del centro abitato con nota datata 24 settembre 2019. Una notizia accolta favorevolmente dall'amministrazione comunale padulese L'amministrazione comunale di Padula commentano esprime viva soddisfazione per questo nuovo traguardo raggiunto nell'interesse dei cittadini che da anni aspettavano tale provvedimento. Il sindaco imparato coglie l'occasione per ringraziare i tecnici e i funzionari dell'ANAS per la fattiva collaborazione. Il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula anche quest'anno ha voluto incontrare i genitori e gli alunni del primo anno in un appuntamento di confronto che è stato utile per presentare meglio il funzionamento e le regole dell'istituto. Come ogni anno il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula dedica un pomeriggio di incontro a tutti i genitori dei ragazzi che sono appena entrati a far parte della scuola. Un appuntamento fortemente voluto dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola per poter anche dare il benvenuto ai nuovi studenti. Nel pomeriggio di ieri i docenti del Pisacane hanno accolto i ragazzi delle prime classi e i loro genitori presso la sala conferenza della Certosa di San Lorenzo per illustrare loro il regolamento dell'istituto il piano di offerta formativa le attività didattiche le modalità di funzionamento del registro elettronico i viaggi di istruzione le uscite didattiche tutto quanto può essere d'aiuto per seguire il proprio figlio nell'importante percorso scolastico ed educativo. Una scuola vicina agli alunni ma anche alle famiglie che attraverso l'incontro manifesta sin da subito la volontà di coinvolgere i genitori in questo percorso che accompagna i ragazzi verso la crescita. La vicepreside dell'istituto Carmela Pessolano con l'ausilio dei docenti ha spiegato in maniera dettagliata le regole che l'istituto impone per un corretto funzionamento della scuola in maniera tale da ottenere il massimo anche nella didattica e nell'apprendimento. Per ciò che riguarda invece il registro elettronico con l'aiuto di diapositive è stata mostrata la funzionalità di accesso al sito da cui direttamente da casa è possibile conoscere il percorso scolastico del proprio figlio ed essere sempre aggiornati sulla sua formazione. È stata anche occasione per spiegare nel dettaglio in cosa consistono i diversi indirizzi di studio a cui i ragazzi si sono iscritti del liceo scientifico tradizionale scienze applicate STEM quadriennale tra i pochi attivati in tutta Italia e le due classi di indirizzo biomedico. Inoltre è stata anche presentata la nuova proposta di indirizzo di studio che potrebbe ottenere l'ok per la sua istituzione il liceo internazionale che qualora ottenuto potrebbe rivelarsi un valido supporto per i giovani che vogliono avviarsi alla carriera politica e diplomatica anche negli organismi internazionali. Un pomeriggio di incontro che la dirigente Liliana Ferzola ha voluto organizzare per accogliere nel migliore dei modi gli studenti del primo anno e avviare un confronto costruttivo con i loro genitori. Nasce a Salerno un Media Education Campus Open si chiama Pensare Bene prima dell'uso da giovedì 17 ottobre a sabato 19 in tre luoghi storici della città Palazzo Fruscione Palazzo Innovazione il complesso monumentale di Santa Sofia si susseguiranno laboratori seminari workshop e confronti per fornire a studenti e docenti che giungono dalla Campania Lazio Basilicata Veneto e Toscana tutti gli strumenti utili a integrare la digital e media literacy tra gli elementi cruciali dell'educazione per tre giorni sarà proposto un percorso formativo full immersion il cui obiettivo è quello di colmare la necessità di leggere decodificare interpretare i messaggi e la miriade di informazioni con cui si è quotidianamente a contatto tutor esperti e protagonisti del settore si alterneranno nei vari momenti d'aula a raccontarsi al MEC venerdì 18 ottobre sarà Daniele Pugliese tra i fondatori di Casa Suraceno che autore e attore che dalle 21 a Palazzo Innovazione incontrerà i ragazzi andiamo avanti entrata nel vivo la visita pastorale del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca a Polla un percorso che proseguirà con visite pastorali in tutte le comunità della Forania Sono trascorsi 30 anni da quando un vescovo della diocesi di Teggiano Policastro ha organizzato visite pastorali nelle parrocchie della diocesi Monsignor Antonio De Luca ha ripreso l'iniziativa e dopo l'esperienza negli Alburni da domenica scorsa è a Polla per dare il via alla visita pastorale della Forania Continueremo con tutta la Forania Atena San Pietro Altanagro San Rufo Pertosa ed è il momento nel quale la nostra chiesa si interroga sulla possibilità di essere accanto alle comunità per ringiovanire la fede rafforzare la speranza La visita pastorale è una consuetudine della chiesa cattolica i nostri archivi sono pieni di rapporti che descrivono l'incontro dei vescovi con il territorio e naturalmente durante la visita abbiamo l'occasione di incontrare le istituzioni come questa sera qui a Polla la scuola la sofferenza gli ammalati gli imprenditori i giovani i fratelli che accogliamo nelle nostre strutture ed è un momento di grande riflessione anche da parte dei parroci che si sono preparati a questi appuntamenti già da diversi mesi elaborando degli schemi dei questionari e degli accertamenti sulla realtà e io ho preferito questa forma diciamo consolidata istituzionale prescritta anche dalla chiesa che mi ha permesso di pianificare nell'arco di due o tre anni l'incontro con tutte le comunità nella prima giornata il vescovo è stato in visita presso l'ospedale Luigi Curto dove ha avuto modo di confrontarsi con i dirigenti i medici gli infermieri e gli operatori inoltre ha anche effettuato una visita degli ammalati visita che proseguirà tutti i giorni in questa settimana di permanenza nella comunità nel pomeriggio poi Monsignor De Luca ha incontrato i referenti istituzionali e le forze dell'ordine locale presso l'aula consigliare Santa Chiara questa mattina e nei prossimi giorni inoltre la visita pastorale coinvolgerà le scuole prevedendo anche incontri con le associazioni locali naturalmente il vescovo sarà presente e incontrerà tutte le comunità parrocchiali locali la visita pastorale si concluderà sabato 19 ottobre quando nel pomeriggio a partire dalle ore 17 incontrerà bambini ragazzi e giovani presso la parrocchia Cristo Re a seguire alle ore 18 la Santa Messa conclusiva di questa visita pastorale ci fermiamo per la pubblicità bentornati in studio sabato prossimo 19 ottobre a Sanza tornano gli appuntamenti con i controlli gratuiti promossi dall'associazione Una Sapienza Onlus in collaborazione con l'amministrazione presso il poliambulatorio comunale screening gratuiti della tiroide sarà dedicato al controllo della tiroide il prossimo appuntamento in programma sabato 19 ottobre promosso dall'associazione Sapienza Onlus di Sanza in collaborazione con l'amministrazione comunale nell'ambito dell'iniziativa che sta cercando di avvicinare i cittadini alla sanità ed in particolare per sensibilizzarli sull'importanza della prevenzione attraverso il delegato del comune Antonio Citer l'associazione preseduta da Pasquale Citer organizza periodicamente appuntamenti di controllo e screening gratuiti avvalendosi anche dell'importante supporto di medici specialisti nei mesi gli appuntamenti di controllo hanno raccolto una grande partecipazione anche perché hanno consentito alla comunità sanzese di effettuare verifiche sullo stato di salute senza necessariamente dover ricorrere a prenotazioni a lungo termine oppure a lunghi spostamenti non sempre possibili grazie all'associazione Sapienza i medici specialisti raggiungono direttamente Sanza per effettuare visite gratuite ai residenti come la giornata di sabato dedicata alla prevenzione al controllo delle patologie legate a disfunzioni tiroidee con l'arrivo presso il poliambulatorio comunale del dottor Mattia Marchesano specialista di medicina e chirurgia per effettuare screening ed ecografie gratuite alla tiroide controlli che potranno essere utili per eventuali diagnosi di noduli tiroidee il dottor Marchesano sarà presso il poliambulatorio a partire dalle ore 8 e 30 di sabato 19 ottobre sabato scorso appuntamento con l'arte teatrale ad Atena Lucana nella chiesa di San Nicola nel centro storico è andato in scena lo spettacolo Io Frida organizzato dalla Proloco Atena Nova l'attrice Eva immediato accompagnata dall'arpa di Daniela Ippolito ha portato il pubblico nel mondo di Frida Calo nei colori e nelle contraddizioni del suo Messico emozioni forti sabato sera ad Atena Lucana per lo spettacolo teatrale Io Frida di Eva immediato e con Daniela Ippolito un appuntamento con l'arte organizzato dalla Proloco Atena Nova che ha portato i presenti nel mondo di Frida Calo nei colori e nelle contraddizioni del suo Messico nel centro storico nella suggestiva chiesa di San Nicola colma di spettatori è andata in scena la vita della pittrice messicana le tragedie l'arte i ricordi struggenti e malinconici la forza l'amore incondizionato per Diego Rivera magistrale l'interpretazione di Eva immediato dolci e riverenti la voce l'arpa di Daniela Ippolito insieme hanno trasportato il pubblico nei dolorosi rabbiosi rivoluzionari e controversi trascorsi dell'artista la Frida di Eva immediato una interpretazione magica e una immedesimazione sorprendentemente reale è Frida Calo a parlare a urlare a sorridere a ballare ed è Frida Calo che racconta la sua vita le sue verità ed è sempre Frida Calo che si sfoga e che gioisce per amore e si intristisce per lo stesso sentimento ma non è Frida Calo è Eva immediato che è riuscita a sorprendere ed emozionare il pubblico resuscitando per 50 minuti la pittrice messicana per farle raccontare la sua storia e la sua terra conclude lo spettacolo Eva immediato con le ultime parole dell'artista che scrisse sul suo diario spero che l'uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più domenica 27 ottobre a Padula l'atteso appuntamento di storia e cultura organizzato ogni anno dall'associazione nuove idee preseduta da Giuseppina Sorrentino in ricordo di padre Giovanni Minozzi torna la giornata del ricordo e il concorso internazionale di arte e poesia manca davvero poco l'atteso appuntamento con l'arte la cultura e la storia dedicato a padre Giovanni Minozzi fondatore insieme con padre Giovanni Semeria dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia di cui quest'anno ricorre il centenario e da cui nacque l'orfanotrofio della Certosa di Padula oltre mille gli orfani di guerra accolti in circa 40 anni di attività dal 1923 al 1960 a tutti fu garantita la sopravvivenza un tetto e l'istruzione ogni anno l'associazione Nuove Idee preseduta da Giuseppina Sorrentino ricorda la pagina importante ma a lungo sconosciuta della Certosa di San Lorenzo e ogni anno la storia l'arte e la cultura per una giornata si fondono in un unicum il quindicesimo convegno incontro con gli ex orfani della Certosa la giornata del ricordo si unisce al sesto concorso internazionale di arte e poesia domenica 27 ottobre a partire dalle ore 9 presso l'Università Telematica Pegaso di Padula gestita da Antonella Pessolano dopo i saluti istituzionali interverranno l'assessore provinciale Giovanni Guzzo il presidente nazionale dell'associazione ex orfani Alvaro Vitale il direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese Don Cesare Faiazza dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno e l'assessore regionale Corrado Matera il convegno dicono gli organizzatori vuol far rivivere con le testimonianze dirette degli orfani i ricordi giovanili e la vicinanza con la comunità padulese il contestuale concorso è nato invece per diffondere e valorizzare la cultura e l'arte in tutte le sue forme e domenica 27 ottobre saranno premiati i vincitori delle due sezioni arte e poesia è tutto per questa edizione vi ringrazio per essere stati con noi buon pomeriggio a tutti voi grazie a tutti